Un finanziamento di 600.000 euro è stato approvato dal Consiglio regionale per la sede del Liceo Marconi di Pescara e che sarà destinato alla provincia quale ente che si occuperà dei lavori di adeguamento sismico, antincendio, impiantistico e del canone di locazione dei locali. Soddisfatto, anche se si toglie qualche sassolino dalle scarpe, il Presidente del Consiglio Comunale, Marcello Antonelli. Soddisfazione ma anche rammarico per una gestione complessiva di questa vicenda che non ci soddisfa affatto perché siamo arrivati all'ultimo minuto per risolvere una questione che si trascinava da mesi. Adesso senza stare qui a processare nessuno, ma ci pare evidente che dal punto di vista della razionale gestione del processo e anche a una certa trasparenza che è venuta a mancare secondo noi rispetto al mancato coinvolgimento di studenti, famiglie, docenti, personale amministrativo abbiamo messo la classica pezza a colori. Si tratterà di correre, lo abbiamo detto, vigileremo sul corretto utilizzo dei fondi soprattutto rispetto al fatto che per settembre i plessi scolastici individuati, quali sostitutivi del Liceo Marconi siano tutti quanti in regola, a posto per ospitare le lezioni. Quindi una dimostrazione di buona politica da parte di qualcuno di pessima gestione da parte di qualcun altro e questo mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Intanto l'ufficio scolastico regionale si è pronunciato nei giorni scorsi imponendo alla provincia una sospensiva dell'ordinanza di sgombero del Liceo per un vizio di forma. Infatti nell'ordinanza mancherebbero indicate le sedi che ospiterebbero studenti e personale, docente e nonna. La provincia deve correre nel contrattualizzare le locazioni rispetto alle quali aveva avuto già assicurazioni con i soggetti individuati, affidare velocemente i lavori di adeguamento delle aule e quindi procedere al trasferimento. Purtroppo i tempi sono ristrettissimi, abbiamo anche il generale Agosto che incombe con le sue ferie. Speriamo che si faccia in tempo, insomma, noi più che metterci a disposizione della provincia andando oltre quelle che sono le competenze del Comune, ma come abbiamo sempre detto, questo è un problema della città che deve vederci tutti coinvolti.